Adesso applichiamo un mac pack, l'impacco d'argilla già steso sul feltrino polvronuto all'uso. Riduce i tempi di applicazione e non vi fa neanche sporcare le mani. È molto comodo soprattutto in composto. Apriamo la confezione, prendiamo il feltrino già pronto, rimuoviamo la protezione. Lo facciamo aderire all'antempore. Dopo di più possiamo già facciare. Finito di fasciare, mani perfettamente pulite. Grazie. 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 Grazie.